Allora, buonasera, dai benvenuto, prego, si fa sopra. D'Anna Kanakis, un grande applauso da parte della biblioteca Masciatori. D'Anna Kanakis la conosciamo tutti come scrittrice, ma anche come scrittrice perché è arrivata da poco con il suo terzo libro, se non sbaglio. E' arrivata qui in libreria con Non giudicarmi, un romanzo pubblicato da Baldini Castoldi, che ringrazio perché c'è l'editore che ti ha mandato fino a noi qua a Bologna. Siamo veramente felici di averti qui. Grazie.